di mio amore dai vai ti voglio dire una cosa una volta ero bellissimo e non avevo bisogno del ferrari adesso mi devo aiutare la sua amica ha detto fammi fare un giro sul ferro andiamo prima che avevo troppo dai andiamo subito dai se non torniamo è perché mi sono fermato che parte vai tigre adesso ti faccio sbrodolare vai ve l'ho detto ragazzi l'unico modo in cui riesco a far venire ancora una donna stai carica abbiamo messo l'asciugamanino sopra ragazzi facciamo un ripresino dai addosso babi non essere gelosa io le faccio avere uno solo ok un orgasmo solo tu sei com'è sei pronta si carica ecco come si propostano le donne vai ragazzi è un capodanno avanti ancora sei già bagnata ragazzi bagnate bagnata l'unico modo in cui riesco a fare venire una donna e da mentre tu sei a spingere col ferro spingiamo noi qualche anno almeno paghiamo la benzina grazie a tutti grazie a tutti